Il mio cane si è eccitato Andiamo? 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 Ah, c***o, ma... No, non ti porto Ah, non ti porto, vai di là Vai di là E voi No, non ti porto più Basta, caffè, farina Guardate, ci sono i giorni indispensabili La gente di Conad lo sa Per questo mi ha resi disponibili A prezzi bassi e fissi Fino a 30 giorni Conad, persone, oltre le cose Cos'è che ci tocca profondare tutte oggi? Conad, c***o, 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 c***o Che cosa vogliamo riprenderci?